Pensavate di andare a vedere quel film inglese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? Ma frate! Una delle domande che ricevo più frequentemente è Tiar, quando torna Rosa Spruzzi? Ebbene, Totò è morto e PES non esiste più. Al suo posto ora abbiamo eFootball 2022, uscito da una sola settimana e già considerato uno dei peggiori giochi di calcio di sempre. Ha pessime recensioni letteralmente ovunque. Ah, perché tutte le cose che amo devono abbandonarmi? Prima di avviare questo brobrio però vi ricordo che tutti i giorni tranne il sabato alle 7 sono in live sul mio canale Twitch. Trovate il link all'interno della descrizione e nel commento pinnato in alto. E ora andiamo a soffrire. Prima di cominciare tenete bene a mente una cosa. Il gioco è in lavorazione da due anni. Non voglio fare lo stronzo ancora prima di provarlo però, quindi startiamo immediatamente una partita. Ah yes, vedo che abbiamo un'ampia scelta. Ben nove squadre. Se non ho capito male non è propriamente la versione definitiva, è una specie di demo. E in passato Konami ha sempre messo tra le 8 e le 10 squadre a disposizione, quindi posso accettarlo. Direi di giocare Barcellona contro Arsenal. Due squadre disastrate per un gioco disastroso. Chi ha quest'uomo davanti? Non ho la più palli... Cos'è successo al Barcellona? Ben White, ma cosa ti hanno fatto? Ma sembra che abbia 85 anni e che stia per morire disidratato, poverino. Madonna quanto poco mi piace questa scherma, mamma mia. Posso dire che nei menu c'è una lentezza impressionante. Proprio il cursore si muove pianissimo. Ciao Fabio, buonasera anche a te. Ora ti muto subito perché non mi interessa sentirti di nuovo. Dov'è finito il mio framerate? No, aspetta, perché mi hai salvato come Tearless Raptor Y? Che cazzo è Tearless Raptory? Ma è uno di quei profili fake su Instagram. Ragazzi lasciate un like a questo video e Tearless Raptory farà il prossimo video al posto mio. E cominciamo la nostra prima partita su eFootball. Con una palla fatta di tungsteno arricchito. Eh sì, quello non è fallo, arbitro. Ma che cazzo? Madonna, ma l'hanno fatta pesantissima davvero sta palla. Ci mette 16 anni a muoversi. Che è sta robaccia? Pesa, ha sempre avuto un'ottima fisica del pallone. Qui no. E all'improvviso va forte, così. Se ne pippo cutigno. Salta Takeiro Tomiasu. Fallo! Ma come non era fallo quello? Ma scusa! Spiegatemi in quale mondo questo non è un fallo. Ma l'ha preso per il coppino! Se ne è fregato proprio completamente del pallone. Ha buttato giù cutigno e poi l'ha inseguito. Ma albero! Madonna, anche Depay è allucinato da quello che ha visto. Però c'è da dire che ho sentito la gente parlare tanto male delle facce dei giocatori e al di là di Ben White non mi sembra che siano fatte così male. Sì, ok, piqué, non so per quale motivo, ma ha meno texture degli altri. Ed è alquanto disgustato dall'idea di essere all'interno di questo gioco. Minchia, Depay mi fa morire. Che cazzo è la monna Lisa che ti segue con lo sguardo? Ma allora... Perché il Ram Style sembra proprio un generico giocatore creato su Pace? È l'equivalente del default di Fortnite. Madonna, invece Aubameyang sembra che non abbia più la minima voglia di giocare a calcio. Guardate che occhiaie che ha figa, non sta più dormendo. Non saprei dirvi bene cosa, ma c'è qualcosa di stranissimo nei giocatori. Forse perché ha cambiato l'engine e quindi è tutto quanto fatto in maniera... Non lo so. Gran recupero palla di Busquets che abbatte Ben White. E ora c'è il Goat. Dove cazzo va? Perché ha abbandonato il pallone? Eh, fa... Questo è fallo. Quello di Tomiasu prima no, però. Vabbè, partita molto entusiasmante. Un tiro in porta per parte. Il mio da metà campo. Qualità. Bravo, Memphis. Ritiro tutto, non è stato bravo. Bravissimo, chiunque tu sia stato a prendere quella palla. Uuuuh. Vabbè, giustamente, Thomas che prova il tiro dalla distanza. Yes. Non poteva mancare. Ci prova in ogni singola partita, anche in real life. E i tifosi dell'Arsenal lo amano per questo. Bravo, Memphis. Uuuuh, vedi che la palla viaggia allora ogni tanto. Cioè, non so quanto forte uno debba colpirla, ma... Cosa è successo? Cosa mi ha fermato? Cioè, lui ha preso la palla, ma... Oh, madonna! Ben White dall'alto dei suoi 117 anni che mi tira un pugno sullo sterno e cutigno che muore a terra. Figa, che potenza ha in quelle nocche. Che tega! Ma quella scivolata un po' più tardi? No, eh. Minchia, che ritardo che c'è tra quando clicchi il tasto e quando effettivamente vai a effettuare l'azione. C'è un input lag della madonna. Bravo, Martino, regà. Bravissimo. Bel gol. Bellissimo. Vai a esultare sotto i tuoi tifosi. Comunque davvero, c'è un input lag imbarazzante. Tra quando dico a De Jong di fare un'azione, quando effettivamente la fa, tipo il passaggio adesso, passano 16 ere geologiche. Ci metto di meno ad andare in posta, scrivere una lettera e mandarla a De Jong. Che effettivamente premere X e conosciamo tutti le tempistiche di merda del nostro servizio postale. Ma come siamo già nei minuti di recupero? Ma chi se n'era accorto? Ultima opportunità. Fallo! Vai, vai, vai. Battila veloce, sta punizione. Ah, va, fa culo, arbitro! Vabbè, vittoria tristissima dell'Arsenal sul Barcellona. Odegaard mi fa paura, c'ha tipo gli occhi scavati dentro la faccia che proprio escono qui all'altezza della tempia. Madonna, oh, che brutta esperienza la prima partita. È lento e macchinoso, non lo è mai stato. Sì, più tecnico e leggermente meno sciolto, tra virgolette, di FIFA, ma mai così macchinoso. Ma buono, dai, facciamo un'altra partita, tipo Juventus contro United. Allora, nelle cazzini i giocatori sono fatti decentemente, cioè riesco a riconoscerli, quelli che effettivamente conosco. Il problema è che poi alcuni sono fatti un pochettino in maniera discutibile. Minchia, il rabbio esterno-sinistro non si può vedere, eh. A questo punto facciamo le cose come si deve e basta, cioè. Coppia d'attacco, De Sciglio, Pinsoglio e andiamo a fare il culo allo United. Guarda che bello, Carletto Pinsoglio. Signore e signori, benvenuti all'Allianz Stadium di Stadium. Signore e signori, benvenuti all'incontro di oggi tra... Minchia, con che pausa ha d'effetto. Benvenuti all'incontro di oggi tra... Juventus e... Manchester United. Comunque io ho messo Pinsoglio in attacco titolare per un motivo ben preciso. Come detto, i movimenti sono lenti e macchinosi, no? A quel punto mettiamo un giocatore che dovrebbe essere ancora più lento e macchinosi in quel ruolo, vediamo come se la cava. Secondo me non ci sarà così tanta differenza. Cos'è successo? Cos'è che ha tenuto Marziale lontano da Chiesa? Eh, madonna, quella caviglia secondo me si è un po' spezzata, Antonino. Ah, no, però una volta che anche Chiesa si è rotto la caviglia. Oh, che male! Marziale ha guardato la palla e ha detto, sai cosa, frate? Nah, me ne frega niente. E me ne vado. Alexandro, dentro per Pinsoglio, che ha abbattuto il Luke Shaw. Di nuovo in mezzo. Questa volta per De Sciglio. Allora, se migliorano leggermente la fisica della palla, che in un gioco di calcio dovrebbe essere la cosa principale. Chiesa! Un cambio di scena di mezzo secondo mi ha destabilizzato, ma bel tiro. Se fosse stato Pinsoglio a fare quel tiro, sarei esploso. Madonna, ma guarda il pubblico! È così poligonale che sembra uscito dal gioco di Harry Potter per PlayStation 1. Cioè, se ci mettete Hagrid, lì in mezzo non stona neanche troppo. Per niente. Eh, le gambe di McTominay stava volando. Zero su dieci, poco realistico, nella realtà si sarebbe tuffato. Ma poi quella gamba, ma cosa ha fatto? Ma no, ha continuato a correre sul proprio piede. Ma, ma, per favore. Che poi possiamo parlare della faccia di Locatelli durante l'intervento? Madonna, Manuel, quanto sei scimmiesco. Che di solito lo intenderei in maniera positiva. Cioè, così più o meno semi quasi ci assomiglia? Ma se lo sposti verso destra e gradualmente reject humanity, go back to monkey. Bernardeschi ha pianto nello spogliatoio perché è stato sgridato da Mr. Allegri. Pinsoglio è incredibilmente accurato per essere il terzo portiere della Juve. Perché sotto questa attenzione ai dettagli dei suoi tatuaggi? Che in realtà è una cosa fighissima, che diano anche importanza a questi giocatori. Però, cazzo, mamma mia, De Ligt. De Ligt è Buzz Lighty. Una scivolata fatta con il tempismo giusto. Infatti ho dato l'input di scivolare appena uscito dal menu. McKennie, apre sulla sinistra per Alexandro. Corre, Alexandro. Ma dove cazzo va Wan-Bissaka? Cross dentro per Pinsoglio. Anticipato di testa, voglio il gol di Carletto. Attenzione, De Sciglio. Si appoggia a Pinsoglio. Pinsoglio, salta l'uomo. Ci prova dal limite. Deviato, angolo? Cos'è sto replay di 15 anni fa? Oh no, dai il giallo a Locatelli per l'intervento su McTominay di 15 anni fa. No, ma perché l'ha fatto rivedere allora? Han sbagliato il replay. Ragazzi, le basi. Dai, Konami. Sono anni che prendo PES per fare la serie su Rosa Spruzzi. E sono anni che lo prendo. Anche quando ero bambino avevo PES 5, avevo PES 2008, PES 2010. Ho sempre avuto questo Francesco, però è un minchia, mi cascano le palle. Così come al pubblico del povero Allianz Stadium che si è visto una partita terribile. Posso fare i calci di rigore oppure no? Non si può andare ai rigori. Va bene, non è stato implementato il calcio di rigore. Scegli la tua squadra per l'evento. Go. Ok, Google. Ok, mi è uscito il 9. Quindi prendiamola a Roma. Ah, vedi, questo è l'online. Ma ammettimelo più chiaro. Ora ho capito per cosa stava la Ypsilon di Tearless Raptory. È Tearless Raptor YouTube. Ma vaffanculo. È il nome del PSN perché qualcuno mi aveva fottuto Tearless Raptor. Ma porca troia. Non mandatemi le richieste di amicizia perché tanto le rifiuto. Avversario trovato. Benissimo. Ciao, Bob. Ma è proprio lui. È proprio iBob. Il mio youtuber e streamer preferito iBob. A tutti i tifosi di usare gli appositi gestini per la raccolta differenziata. Tanto nessuno la fa la raccolta differenziata. Soprattutto in uno stadio dove buttano tutto in giro. Nella mia vita sono stato una singola volta allo stadio e ho visto gente accoltellarsi. Quindi, cazzo, però sarebbe figo vedere anche le facce dei giocatori della Roma. Peccato che non sarà possibile durante le partite online. Benvenuti all'incontro di oggi tra... Pausa. Non lo dice. Non dice quali sono le squadre. Dove va Gianni Quadrado? Gianni, Gianni... Oh, cazzo. Bob, qua ci sa giocare. Eh, madonna, che tega. La mia difesa, dov'è? Corri, Karsdorp. Eh, vaffanculo. Bravo, Rui. Madonna, Rui Patrizio su PES mi fa tornare al 2010. Era il mio portiere nella carriera con la Juve. Mi avevano offerto Rui Patrizio più soldi per Buffon. Mai miglior scambio fu fatto. Anche perché Buffon si ritirava dopo tipo tre stagioni su PES 2010. Actually, nel 2021 ancora a giocare come un capo. Ma corri, Leo! Il lancio di Mkhitaryan è lui che lo guarda, così. E dove stava andando fuori da... Ma guardate Chiellini! Non era neanche Chiellini, forse era Danilo. Questo gioco è una fabbrica di meme. Si merita almeno tre stelle soltanto per quello. Capisco che la gente lo voglia per altro, ma... Ehm... Uff. Bravo, Smalling. Bello un intervento in difesa. Lorenzo Pellegrini. Salta Danilo. Prova col sinistro, Scesni! Con una parata un pochettino alla Carlona. Passaggi corti e vedrete che riusciamo ad arrivare avanti. Tra qualche secolo, ma ci arriviamo. Buono il pallone per Spinazzola. Si è lanciato il 37. Cross all'indietro. Chi la prende quella palla? Bravo, Shomurodov di testa. Dove minchia vai? Mkhitaryan. Figa se la palla teniva incontro perché gli scappi via. E' bello, bravo. Tu a zero. Ehi, Shibirui. GG, nulla da dire. E-Football mi sta facendo passare la i-voglia di vivere. Buona la palla dentro. Vai, Mkhitaryan, piazzala. Cosa ha preso Shesni? Cosa cazzo è sta roba? Cos'è quel fascio di luce che parte dalla palla? Oh no. Oh no. Oh no. Sì! Ero entrato in scifrata con Mancini dieci anni luce prima. Anni luce, poi. E la palla gli è andata a sbattere contro dopo il suo tiro. Attenzione, Zaniolo. Cross dentro. Vai, Tami. Sì, il 2-1. Bello come gol. Carino, non male. Ai, Alexander Dwiakarstorp. Intrescivolata. E... Uuuuh. Però è realistico, cioè ci sta. A livello di fisica è giusto che accada quello che è accaduto, però mi fa ridere tantissimo. Il fatto che abbiano deciso di scrivere un codice per quello, ma non per una fisica del pallone decente. Ma che cosa hai... Non ha preso niente quella palla. Non ha toccato nulla. Eh, niente. Ennesima sconfitta. Ma almeno ho segnato il mio primo gol ufficiale, vero? Eh, mi sa di sì. Bravo me. Sì, in conclusione c'è decisamente qual quadra che non cosa. Ci lavoreranno su, lo spero. E spero che giungeranno anche una modalità carriera, perché un rosa spruzzi sui football non è un brutto titolo, eh. Sì, in conclusione c'è.